salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del format parliamo di libri do il benvenuto all'ospite di oggi gennaro marco duello ciao ciao grazie per essere qui con noi e per aver accettato l'invito e soprattutto per aver accettato di parlarci del tuo romanzo però prima di cominciare volevo raccontare un po qualcosa di te a tutti coloro che ci stanno seguendo perché gennaro è giornalista della redazione di cultura e spettacolo di fanpage punto it e prima di cominciare a scrivere è un lettore curioso instancabile correggimi se sbaglio non puoi scrivere se non prima legge e poi alla fine hai pubblicato il tuo primo romanzo si è arrivato a pubblicare il suo primo romanzo che è un male purissimo edito da roggiosi dalla casa editrice roggiosi e soprattutto è anche fresco di stampa perché uscito il primo giugno 2022 si a meno di un mese ecco quindi già un grandissimo successo posso dire nonostante siano passati pochi giorni dall'uscita sì sì se ne sta se ne sta parlando tanto se ne sta parlando bene io sono assolutamente felice della dell'attenzione che sta catturando il romanzo sono felice di essere e qua tra l'altro ecco lasciami fare i complimenti a te come tutta la redazione perché la bussola credo sia un grande riferimento giovane ma già abbastanza autorevole sul territorio grazie mille grazie mille davvero e però io vorrei che tu raccontassi quindi proprio a parole tue che storia è quella di un male purissimo è la storia di persone che all'apparenza sembrano risolte ma in realtà non bastano per se stessi non sanno accettarsi non sapendosi accettare non riescono nemmeno ad accettare gli altri i protagonisti sulla scena sono essenzialmente tre il primo è marzio figurato che è un imprenditore di successo che lavora nel mondo della comunicazione del food di fatti non c'è nessuno che sappia raccontare un cibo anche il più spropositato dal punto di vista calorico come come marzio figurato ha vinto diversi premi nelle riviste di settore è un uomo all'apparenza insomma risolto che però in realtà nasconde nasconde delle grepe interiori un matrimonio che funziona poco e male e il desiderio condiviso con sua moglie che altrettanto una donna brillante che lavora nel mondo della sanità il desiderio di un figlio che non arriva in queste crepe coniugali si inserisce poi antonio lungo che è una sorta di l'antagonista di questo romanzo è un operaio notturno un padre disamorato un marito violento che come seconda attività è storce soldi per conto di due transessuali colombiane che hanno aperto una rete criminale ecco senza voler spoilerare troppo però le due i due destini di questi due uomini sono destinati a incrociarsi tanto però come mai hai deciso di mettere proprio nero su bianco questa storia e cos'è che ti ha fatto scattare l'ispirazione per scrivere questa storia sì in realtà io occupandomi di spettacoli e cultura insomma ed essendo da sempre un divoratore di storie quindi di cultura pop in genere io ho letto e ho visto tanto quindi ho sempre amato scrivere sempre amato scrivere darsi felicità diceva steven king dice ancora fortunatamente steven king hai ragione fortunatamente quello che ci ha regalato le storie che ci regala scrivere darsi felicità quindi soprattutto in un periodo perché la storia l'ho cominciata a scrivere nel 2019 poi quindi proprio prima di quello che prima del prima del covi di quello che non potevamo mai immaginare potesse capitare l'era covi da dato un boost ulteriore alla storia perché avevo bisogno appunto di più felicità di più serenità ed è una storia la storia la storia cupa è un è un noir delle tinte molto fosche però scriverlo mi ha fatto mi ha fatto stare bene perché inevitabilmente ci ho fatto finire molte mie nevrosi al suo interno intanto napoli napoli fa da sfondo però a sua volta anche protagonista di questo romanzo di questo noir che napoli è allora è una è la napoli contemporanea napoli di oggi prende dal proprio da sfondo prende dal salotto buono di via calabritto e arriva fino alle viuzze popolari del vasto e alla decadenza del centro direzionale è una napoli che fa da sfondo ma che in realtà come detto e detto bene è un personaggio assistante non puoi tenere napoli solamente diciamo da parte non può essere mero mero orpello allo stesso tempo è una città pericolosissima perché poi la devi tenere a bata la di tenere a freno quindi ho cercato di dosare col giusto con le giuste misure diciamo la città e c'è c'è una cosa che mi piace dire ogni personaggio ha un rapporto particolare con con il vesuvio il vesuvio un elemento centrale è proprio come nella vita di ogni napoletano credo che riesce ad assumere una dimensione intrigante e diversa a seconda degli occhi di chi riguarda marzio figurato dice appunto il vesuvio cambia come cambia una persona secondo le giornate in cui lo guardi assume una dimensione diversa e tra l'altro la copertina stessa del romanzo correggimi se sbaglio ricorda forse il vesuvio sì nonostante ci sia un grattacielo però queste fiamme questa lava metto sì esatto sì è un vesuvio quasi rovesciato stilizzato poi in realtà sullo sfondo c'è il centro direzionale questo uomo che cade questo falling man il lavoro che ha fatto la roggiosi con questa copertina è stato fantastico sono molto contento e poi anche quello che dicevi di napoli credo che sia ciò che accade nella realtà a tutti noi no in qualche modo ognuno di noi ha un rapporto particolare con la città cioè quindi poi anche con i simboli della città stessa però forse napoli e presenza troppo ingombrante sia in positivo che negativo nella vita di tutti i giorni nella vita di tutti noi cioè credo che non hai hai messo non ha inventato in questo nonostante sia un romanzo perché hai messo la realtà delle cose in questo romanzo da napoletano che è nato a napoli e resta a napoli vuole restare a napoli la città in tutti i suoi problemi e in tutte le sue contraddizioni è una città che va accolta cioè napoli noi non la possiamo cambiare possiamo certo approcciarci alla città in maniera positiva proattiva essendo una cosa facendo coscienza civile essendo un collettivo però napoli è una città che ti deforma non sei tu in grado di deformare la città e tra l'altro il modo in cui tu credo abbia usato appunto napoli no si è anche un modo per utilizzare questa la sua il suo essere ingombrante e utilizzarlo appunto nel nel romanzo quindi fare in modo che per una volta non solo per questa volta ti puoi servire di napoli proprio a modo tuo si 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 se la fai diventare uno sfondo è stata protagonista di questo noir si è stato è stato assolutamente bello scrivere soprattutto determinate scene c'è per esempio c'è una scena molto carina a piazza nicola amore nella zona di piazza vittoria no a piazza vittoria sotto la statua di nicola amore perché piazza nicola amore in realtà è senza la statua di nicola amore nicola amore era il sindaco del risanamento napoletano e io ho giocato anche a fare una sorta di mappatura perché il protagonista abita piazza nicola amore è un fatto di cronaca all'interno del libro invece avviene sotto la statua di nicola amore a piazza vittoria a proposito di sotto questa colgo appunto questa parola che ha utilizzato e soprattutto il riferimento al grattacielo al centro direzionale perché i sotterranei cosa fanno i sotterranei nel sotterranei ecco perché il romanzo per un certo punto diventa si fa racconto di formazione va a indagare il passato dei protagonisti e nel passato di questi protagonisti c'è un trauma che si consuma nei sotterranei del centro direzionale centro direzionale nell'idea di kenzo tang che è stato l'architetto giapponese insomma che ha rilevato il progetto e poi ha inaugurato il centro direzionale doveva essere la superficie doveva servire appunto alle persone e alla condivisione quindi era pedonale e tutto insomma diciamo a uso e consumo una città nella città sulle superfici doveva invece esserci appunto come di fatto è le strade e la percorrenza insomma delle automobili in realtà come di fatto è anche nella cronaca reale il sotterraneo del centro direzionale ha nascosto per anni prostituzione minorile drammi e fatti di cronaca di ogni genere nel sotterraneo del di un male purissimo nel sotterraneo del centro direzionale si consuma quella che forse è una tragedia del motore scatenante non posso proprio ovviamente non lo voglio dire si sta cercando mi sta arrampicando gli specchi vorrei dirlo ma non posso dirlo perché poi rovino rovino i colpi di scena che ci sono anche io da lettrice giustamente però sì cioè ritornando a noi il centro direzionale dal mio punto di vista è un grandissimo cazzotto negli occhi di napoli per quanto sia un indotto importante per quando si per quanto sia fondamentale c'è il tribunale c'è palazzo dal mio punto di vista dal punto di vista è semplicemente architettonico è stato un fallimento che continua ad essere un fallimento intanto torno su di te mi sposto un attimo dalla sposto l'attenzione dal libro ai tuoi riferimenti letterari se ne sono perché credo che se tu sei un lettore instancabile ovviamente questa questa cosa che ti sto per dire della chiedo dopo che voglio sapere due riferimenti letterali perché importante anche ispirarsi ai grandi prima parlavamo di king si sia beh sicuramente king è uno si fecchi che uno dei primi riferimenti ma soprattutto per il fatto che che king nonostante tutto è sempre stato considerato da una certa critica uno scrittore diciamo minore invece io credo che abbia abbia scritto le vere pagine del grande romanzo americano siamo tutti a cercare sempre il grande romanzo americano grande romanzo americano è fatto da tantissimi scrittori e king c'è dentro con tutte le scarpe e con tutte le mani quindi sicuramente lui simenon simenon non il simenon di maigret ma quello dei romanzi dei romanzi conclusivi la camera azzurra per dire la mano simenon è stato in grado di scrivere di mettere su carta la crisi coniugale la crisi coniugale e la convenzione sociale del matrimonio come nessun altro e sono dei romanzi davvero brutali per brutali perché sinceri nel rapporto tra tra uomini e donne nel rapporto tra tra individui e quindi consiglio a tutti la lettura del simenon non di non di maigret sono fantastici i romanzi di maigret ma consiglio quelli quelli diciamo si singoli insomma intanto quindi ti faccio la domanda che ti stavo ti stavo per porre quanto il tuo essere giornalista che ovviamente anche se ti occupi di cultura e spettacolo comunque proprio cioè tutti i giorni ti scontri con una realtà quanto ha influenzato la stesura di questo romanzo ma anche il fatto che tu sei appassionato di fiction reality serie tv quindi hai molta conoscenza del tuo settore quanto questo poi ti ha influenzato anche nella stesura di malevolissimo mi ha influenzato tantissimo perché è il mio lavoro e lo stesso diciamo lo stesso giornalismo come lo stiamo e come lo intendiamo oggi alcuni alcuni passi parlano anche di questo cioè io nel romanzo è un romanzo di genere sicuramente però ho cercato di infarcirlo anche di quelle che sono le mie idee su determinate su determinati aspetti il giornalismo si ha influito molto nella scrittura di questo questo romanzo tanto le tue presentazioni sono molto particolari perché tu hai creato un legame con un'altra persona no che fa musica qui a napoli giusto e poi anche la tua partecipazione al napoli pizza village è stata un grandissimo successo cosa ci racconti di questa di questa cosa allora no con tommaso primo intanto è stato lui che mi ha fatto un grandissimo regalo perché io siamo amici ci conosciamo però quando gli ho spiegato insomma guarda che un male purissimo ha dei contatti a dei punti di contatto con favola nera perché il suo disco racconta appunto le nevrosi della nostra città allo stesso modo in cui farlo fa un male purissimo per quanto siano due ambiti completamente differenti e quindi e quindi ci siamo ci conoscevamo prima ci siamo trovati anche in sintonia da un punto di vista artistico mi ha fatto il grande regalo di venire alla prima presentazione del libro che c'è stata a bagno elena musicando musicando alcuni brani e in particolare c'è un brano in favola nera che è onorato delitto e passione che invito tutti ad ascoltare che è perfettamente aderente a quello che è il il concept del del romanzo il sopra il sotto il lato a e il lato b di una persona lato scuro e il lato buono intanto le presentazioni comunque io devo dire che ti seguono lo sai e vedo che sono molto partecipate quindi ritorniamo un po quello che dicevamo prima un grande successo per male purissimo anche se è uscito da pochissimo tempo certo sì se no sono sono molto felice sono molto felice ho letto una recensione perché poi insomma io adesso sono curiosissimo vado a leggere le recensioni su amazon sui vari sui vari blog eccetera e c'è un lettore che non conosco vorrei regolore abbracciare che ha scritto questo non è un libro è un rasoio e io credo che per uno scrittore di di noir di narrativa di tensione leggere un una cosa del genere che sia un grandissimo complimento per questo figlio mio lo chiamo così io ho due figli sono sono padre sono anche diventato mamma il terzo bambino il terzo bambino il terzo però ci auguriamo dal punto di vista del letterario poi ovviamente l'altra sfera personale ma no 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 ci auguriamo soltanto il primo di una di una lunga serie speriamo e quindi cosa ti auguri per il futuro di questo romanzo posso dire la mia ma si presterebbe molto bene per una serie tv non lo so guarda io insomma non si parla prima che non dire catto se non ce l'hai nel sacco io su questo da questo non ci penso cioè non anche perché davvero da un punto di vista editoriale non è non è un pensiero che spetta a chi scrive io mi auguro di continuare a scrivere poi poi sarà quel che sarà cioè tutto quello che sarà perché sia fatto con con le stesse buone intenzioni con cui è stato è stato fatto questo romanzo io lo accetto la stessa esigenza di scrivere di mettere nero su bianco indipendentemente dalla storia ma mettere nero su bianco anche pezzi di noi stessi sì esatto deve deve esserci deve esserci sincerità anche perché diciamo i lettori se ne accorgono non è come altri ambiti nella nella scrittura e nella letteratura i lettori sono tutti quanti non esiste un lettore debole un lettore fuori lettori su tutti quanti forti quindi ci vuole quel grado di verità di sincerità anche la verità della finzione se vogliamo però ci vuole devi essere sincero non non puoi prendere in giro nessuno ecco quando scrivi e perché leggere un male purissimo chi è il lettore ideale di un male purissimo forse la domanda più difficile che mai fatto oggi chi è il lettore il male purissimo il male purissimo è sicuramente il lettore che adora che ama una narrativa di tensione questo in particolare io lo definisco un post noir ovvero tutti gli elementi classici del noir meno il cliché fondamentale del noir cioè l'assassino e il l'investigatore ok il caso da indagare semmai è le esistenze dei personaggi che abitano le pagine del romanzo quindi il lettore questo qua quello che ama una narrativa di tensione senza cliché del genere genaro io ti ringrazio tantissimo per aver parlato di un male purissimo per averci raccontato qualcosa di più di questa storia però senza spoiler ovviamente io vi invito a leggere questo romanzo che davvero vi lascia senza fiato ma secondo me la definizione più corretta è quella che ha fatto appunto il lettore che ti ha lasciato la recensione è come appunto un rasoio senti questa tensione continua e poi ci auguriamo il meglio sia per per te per il tuo futuro anche letterario e poi anche devo dire io mi auguro una evoluzione oltre che appunto letteraria di un male purissimo speriamo speriamo magari la bussola mi porta fortuna dai speriamo bene e grazie mille per grazie a voi e complimenti ancora per tutto e a tutta la redazione grazie io ringrazio davide porzio e regia scusate ma soprattutto tutti voi per averci seguito